E' infermo eh? Però è figo l'affare sto portando Proprio volevo farvi vedere una cosa Qualcuno è stanco Qualcuno ha girato per tutta Copenaghe oggi Stanchissimo E' bollito Abbiamo fatto un po' di passi Si Una meraviglia Questo video si sentirà malissimo Ma c'è un vento che è Forse si sente Questo uuuuh è vento Benvenuti in Svezia E' arrivato il messaggio Si è arrivato il messaggio del telefono Grazie Siamo in Svezia Sì Sì La frontiera è questa qui E Teddy mi raccomando Vai sempre davanti a non devi passare Ho 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 Via In Svezia sia Questo è proprio come capire che siamo arrivati in Svezia senza farlo sapere Qua via Qua via Eh Qua via Qua via ma guarda che belle catine questo qui e vai espresso e sarà finito e questo qui questo qui non ci ho fatto scegliere se era la misura però va bene ah per come è solita innanzi che è un piccinino vabbè meglio almeno non esce com'è un po' 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 Grazie io c'ho già il fiatone comunque bisogna arrivare lassù andiamo via ehi ma un ponte di questo è tremenda chiedi un po' scappiamo vai Tetti già si guarda di sotto e paura vai Tetti andiamo no 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 ma qui se andate un po' di drone si può spavolare? certo guarda l'applicazione drone ci abbiamo fatta guarda l'applicazione drone guarda l'applicazione drone c'è un po' di vento, è video, metti qualcosa, tutte le volte lui, però abbiamo fatto volare il drone, si ma c'è un vento, guarda là, mi raccomando, iniziamo la discesa va, Teddy mi raccomando a te, vai piano, andiamo, andiamo, andiamo. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Sì. 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 Un po' di basilico. Sì. 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 Sì.